Nei preludi di Sergei Rachmaninoff, Don Luigi Giussani, che è il fondatore della colonna Spirito Gentile, ha voluto individuare la novità del mondo. La novità del mondo c'è se l'uomo appartiene. Quando si identifica con la vita del popolo, la creatività del singolo tocca la sua maturità più grande, fino a portare il popolo intero. È in questo modo che vogliamo dare un contributo con la collana all'approfondimento del coraggio di dire io dentro questa radice relazionale, popolare. L'esecuzione dei brani di Rachmaninoff verrà proposta dal maestro Pietro Beltrami. Il dialogo su questa esecuzione sarà con il maestro Nazareno Carusi e in collegamento con il maestro Chris Watt. Grazie. 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 Grazie.